La Valencia, Maria Limardo, dove sta? Prima ha parlato, è uno dei due miliardi di calabresi, però lei è in Calabria. Dov'è Maria Limardo? Mi ha appena scritto segnalandome la sua presenza. Non c'è. Ecco, c'è Fulvio Bartuscello, però non vedo. Ah, ecco di Maria. Maria, vieni, vieni Maria. Maria Limardo va al voto, anche lei come il sindaco Masci, sindaco primo mandato per il secondo mandato, nella primavera e quindi intanto un augurio a Maria Limardo Pippo ed è una città molto complicata da amministrare. Prego Maria.